Buona giornata e ben trovati dopo la nostra sfavillante sigla, eccoci al nostro grande appuntamento dedicato all'informazione e per quanto riguarda la rassegna stampa giornaliera, oggi giovedì 11 luglio 2019, Gazzettino, Tribuna di Treviso, per quanto riguarda poi anche Provincia e Conegliano, Vittorio Veneto e Quartier del Piave, le zone che esaminiamo per voi e poi scorreremo anche le notizie dello sport attraverso la Gazzetta di stamane. Andiamo ad iniziare subito e allora cominciamo con il Gazzettino, prima pagina, eccola inquadrata con una prima pagina che ha tre riquadri che ci portano e ci porteranno nelle pagine interne a Castelfranco Veneto a parlare di un ospedale diffamato sul web, il musicista va a processo, poi la storia, l'epopea dei Cinquecento, quei friulani che costruirono la trans-iberiana, se ne parla a pagina 19, poi ancora ciclismo, Zen accusato di doping dopo la vittoria al Gran Fondo, pensate voi doping per correre una Gran Fondo, quindi vuol dire amatori, pensate solo questo, vuol dire amatori, se Zen sarà confermato, accusato di doping, dove siamo arrivati? Questa è veramente la domanda che ci poniamo. Fincantieri circa, fincantieri scusatemi, cerca 6 mila lavoratori ma purtroppo non li trova. L'amministratore delegato Bono aggiunge che i giovani hanno perso la voglia di lavorare, allarme anche dalla scuola, 1 su 3 non sa l'italiano e al sud è pure peggio, questo ci se ne accorge adesso che i giovani non sanno l'italiano. Staffetta Lega Fontana alla Unione Europea, Locatelli alla Famiglia con lo slittamento di Lorenzo Fontana agli affari europei al posto di Paolo Savona da mesi in Consob e di Alessandra Locatelli alla Famiglia, Matteo Salvini ha chiuso o quasi la questione di rimpasto nel governo. Autonomia, si parla di Zaia, si parla di Veneto, qui nel riquadro evidenziato non saremo la nuova cassa del mezzogiorno, dice il Presidente del Veneto della Regione, l'extragettito del Veneto, una nuova cassa del mezzogiorno? Non firmerò, assicura Luca Zaia, una presa in giro del Veneto. Un retroscena, prima di vedere la foto, un retroscena qui sul riquadro, parla di grandi navi ancora con Toninelli che gonfia l'incidente, da lieve l'incidente passa a grave. E poi Mose Cerniere già da cambiare, incredibile, Raffaella Vittadello si occupa oggi di questo argomento. Garantite cent'anni sono dare di fare ancora prima che il Mose sia concluso e messo in atto, messo in funzione, dobbiamo dire. Le cerniere del Mose costate 250 milioni nel 2010 sono già logore al punto che bisognerà spendere altri 34 milioni per una gara di appalto per rifarle e studiare un sistema che le renda indistruttibili sotto acqua con nuovi materiali. Io penso che stiamo facendo veramente ridere il mondo con il Mose che non è mai partito, non ha mai funzionato e abbiamo già di questi grossi problemi. Chiudiamo con la prima pagina del Gazzettino, vedete due riquadri, destra e sinistra pagina, cordata all'Italia. Oggi le condizioni dei Benetton, l'amministratore delegato di forza di ferrovie di Stato, Battisti, ieri ha ripetuto a Di Maio che senza Atlantia la nuova Alitalia non potrà decollare. Intanto di fronte al pressing continuo il gruppo autostradale è ora disponibile a rivedere il suo no e oggi potrebbe presentare la manifestazione di interesse. È probabile che il gruppo dei Benetton la subordinerà ad alcune condizioni. Andiamo a chiudere con Barea e Beltrame che ci portano poi anche a pagina 11 del Gazzettino di stamane perché si parla di botte ai bimbi che non sanno il Corano. Imam allontanato, chi non imparava alla perfezione i versetti del Corano veniva punito. L'imam girava tra i bambini impugnando un lungo bastone e al primo sbaglio li colpiva alla schiena e alle gambe. È quanto avveniva nel centro islamico a Pieve di Soligo durante le elezioni pomeridiane di Corano tenute dall'imam Omar Farouk, 36enne bengalese, a segnalare le violenze e le maestre delle elementari. All'imam è stata applicata la misura cautelare del dirieto di dimora nella provincia di Treviso. Questa è la prima pagina del Gazzettino. Sfogliamo adesso e scopriamo insieme a voi la prima pagina della Tribuna di Treviso di oggi, sempre di giovedì 11 luglio 2019. I riquadri e le aperture sono su di un utile da 27 milioni per asco della Giustina rieletto presidente Giovanni Zoppas entra nel CDA. Se ne parla a pagina 15. A pagina 12 invece Atlanzia o Atlantia come preferite verso all'Italia. Mion aggiunge ci stanno pensando a pagina 12 appunto della Tribuna di stamane. I giovani trevisiani emigrano molto più dei coetanei italiani. Fatta 100 la media nazionale, Treviso registra un tasso di 151, sono più di 1000 all'anno quelli che scelgono l'estero per affermarsi. L'Italia nel secolo precedente, il 1970, è stato un grande paese di emigrazione ed il contributo del Veneto a questo esodo di di massa, è stato imponente. Ancora oggi ci sono luoghi del Brasile e dell'Argentina in cui si parla il dialetto veneto, come ricorderete per quanto riguarda il Brasile, è detto Tajan. Tuttavia nell'ultimo trentennio del Novecento le emigrazioni dell'Italia, in particolare dall'Italia del nord, sono praticamente cessate, mentre l'Italia diventava un paese di immigrazione per l'appunto. Questa bambina, Asia, la bambina castellana che ha sei anni, vedete la foto, ha sei anni e ripulisce la spiaggia dalla plastica e dalle cicche. Fa pensare ad una piccola Greta trevigiana, visetto serio, espressione corrucciata, dittino alzato a dire non si buttano carte e sigarette per terra. Asia Bernardi, sei anni, non sa nulla della ragazzina icona dell'ambientalismo, ma in vacanza ad Agrigento si è messa a raccogliere cartacea e plastica dalla spiaggia per ripulirla. Merito delle sue maestre e del poverello di Assisi, se ne parla a pagina 19, si ritorna su questa notizia. Andiamo sul monito di Zaia, il presidente della regione dice che nessuna speculazione sull'UNESCO. Luca Zaia chiama a raccolta i sindaci e le categorie economiche e detta i tempi per preparare il piano di gestione dell'UNESCO, se ne parla a pagina 13 della tribuna di oggi. La Lega, emissari di Salvini, vedete a Mosca per soldi russi, pubblicata la registrazione di un meeting di cui aveva già scritto anche l'Espresso, tra uomini vicini a Salvini, esponenti del Cremlino. La polemica, questa pagina va a chiusura con la protezione civile, con il vessillo venetista per l'assessore. Un'intervista a pagina 8 della tribuna ad Elkian, 120 anni di Fiat, la sfida di innovare. Le auto hanno già a bordo più tecnologia degli smartphone e l'opportunità è di farne un volano dell'innovazione. La pagina, la prima, chiude la tribuna con due riquadri e si occupano di storie. La prima riguarda gli allunni più bravi se la lezione si fa con la musica e la seconda è fugge in groppa e a pelo del cavallo che era stato rapito. Insomma, la musica non è solo magia che incanta ma che è anche supporto importante per diventare più bravi ed attenti a scuola. Lo dimostrano i 300 bambini delle tre scuole elementari dell'Istituto Comprensivo di Silea che hanno sperimentato il metodo MindSync e il loro profitto è naturalmente migliorato. L'altro articolo, che poi riprendiamo a pagina 23, riguarda il Far West che non sta mica in America e come Sergio Leone mostrò qualche decennio fa. Lo testimonia quanto è successo a Casale di Musano dove il proprietario di un cavallo rapito, si fa per dire per debiti nottetempo, si sarebbe introdotto nelle scuderie e senza sella se ne è fuggito al galoppo come un vero e proprio Sioux, un indiano. Questo per quanto riguardava la prima pagina della tribuna di Treviso di stamane. Allora, andiamo ad inoltrarci in provincia adesso, cominciando ancora una volta dal Gazzettino Trevisiano. Scopriamo e vi faccio vedere i primi due riquadri che poi vengono ripresi alle pagine interne. Si parla del maxiconcerto e delle leggende del jazz per celebrare i primi 50 anni del Conservatorio. Se ne parla pagina 25 di oggi. L'Atletica non ha una pista per allenarsi ma conquista gli europei. Il collega Malvestio se ne occupa pagina 23 sempre del Gazzettino. Ed infine la Grif in città Giardino, rinascita per il commercio. Zara in centro è già un affare. L'entusiasmo di categorie ed esercenti per l'approdo del colosso spagnolo che presto aprirà un emporio di accessori per la casa a Treviso è naturalmente stata visionata e constatata già da questo articolo. Bastonate ai bimbi. Questa è l'apertura che è veramente spaventosa. Bastonate ai bimbi è cacciato l'imam. 20 discepoli fra i 5 e i 10 anni puniti nel centro islamico di Pieve di Soligo perché non imparavano a memoria il Corano. L'indagine è scattata dopo la segnalazione di alcune maestre che li avevano trovati pieni di lividi. La connivenza dei genitori che sapevano però stavano zitti. Incredibile. A Scopiave un'assemblea compatta con della Giustina che resta in sella. Arrestò Covre, vedete, innocente, lo inchioda una perizia. Covre si dichiara innocente. Ieri vi ricordo, abbiamo visto quell'articolo appunto dove c'era anche la foto in prima pagina dove Covre si dichiarava innocente dopo i 23 anni di galera. Il generale di Carabinieri Nicolò Gebbia dice che all'epoca dei fatti arrestò Sante Covre per il duplice omicidio di Cordiniano. È convinto che lui sia colpevole. La sua è una strategia ma ad inchiodarlo c'è anche più di una perizia. Questo per quanto riguardava l'articolo e il caso Covre. La foto parla di cellulari al volante, ancora una volta, controlli in borghese, atteggiamenti pericolosi e ripetuti. Adesso scatta il giro di vite. Vigili ed agenti sguinzagliati in centro, a Treviso e anche sulla A27. Ospedale diffamato dalla foto si va a giudizio pubblicata sui social a Castelfranco Veneto. Dormo per terra, il giudice non fa sconti. E poi chiudiamo con la pagina provinciale del gazzettino prima di sfogliare l'inserto. Farra di Soligo, gita sulle colline. È la prima dell'era Unesco, prima iniziativa targata Unesco tra le colline del Prosecco. A Sanfior qui si parla di grandine, danni per 200 mila euro e si proclama lo stato di calamità, naturalmente, per quanto riguarda quanto è successo in questi giorni per il maltempo. Allora, tra un inserto e l'altro io vado a scoprirvi e a trovarvi le pagine coneglianesi, Vittorio e quartiere del Piave, che sono quelle che più da vicino ci interessano per quanto riguarda il nostro bacino di utenza. E allora chiude la guizza, fine di un'epoca. La guizza chi è di Conegliano e della nostra zona, insomma, la conoscono tutti. Da 12 anni era gestita dall'enologo Ugo Camerotto, ho raggiunto l'età della pensione, lascio a malincuore. Risultano delle manifestazioni di interesse, ma al momento la riapertura è esclusa. Sono inoltre necessari lavori onerosi, piuttosto onerosi. È una storia che riempie di tristezza, anche il sottoscritto, ma a tutti quelli della mia età, perché la guizza, quando si bruciava a scuola, quando non si andava a scuola, la meta favorita per non farci trovare, chiaramente, era la guizza. Quindi ti ritrovavi tutti lì. Poi si era una bella giornata, ancora meglio, perché vedevi un panorama incredibile. Si mangiava più che bene, si stuzzicava più che bene. Insomma, diciamo che queste cose andrebbero, secondo me, salvate proprio dall'amministrazione comunale. Io spero che ci si pensi, insomma, perché è un caposaldo importante questa guizza. La nostra famiglia aiuta 1.645 bambini. I numeri sono freddi, ma danno l'idea di quanto sia grande la famiglia della nostra famiglia. È un gioco di parole. Ci sono stati anche quelli del Ferrari Club Prealpi Venete che l'altro giorno hanno portato le Ferrari in quel della nostra famiglia. A Campolongo, vedete qui, bivacco in Pontebana, Ferraresi dice ci vuole il Daspo. Due uomini stesi su un giaciglio di fortuna nei pressi della Pontebana. Una scena che stride con un territorio, che è patrimonio dell'umanità adesso, e che non è sfuggita all'occhio di Alberto Ferraresi, capogruppo del Movimento 5 Stelle, in consiglio comunale a Conegliano, che ora convoca ed invoca il Daspo urbano per queste due persone. Si continua a parlare di maltempo, si continua a parlare di grandine. Guardate, più di 200.000 euro di danni, chiesto lo stato di calamità per quanto riguarda San Fior e la zona, San Fior, Cordiniano, Orsago. Quella zona è stata veramente devastata. Valdobbiadene, Farra e Pieve di Soligo, sempre più nell'occhio del ciclone, ma positivamente per quanto riguarda l'era dell'UNESCO. Domenica, vedete, domenica escursione sulle colline, la prima dell'era UNESCO. Per Encindice si potrà ammirare il paesaggio, un vero e proprio patrimonio dell'umanità. Banda e festa a sorpresa per Franco e Giulietta, in pensione dopo 35 anni al bancone del bar al centro di Valdobbiadene, San Pietro li ringrazia. Andiamo su Vittorio Veneto, guardate, Vigneti vicini a scuola, il caso finisce in procura. Il gruppo Stop Pesticidi ha scritto al Comune e all'Istituto, non ritenendo le risposte esaustive ha presentato un esposto. Il Presidente dice, riteniamo non siano rispettate le norme del regolamento di polizia rurale e da qui è partita la segnalazione. Biblioteca al fresco, sono arrivati i condizionatori a Vittorio Veneto, poi non ci tornerei più su questo caso perché mi pare che sia un po' pompato, però SUV parcheggiato sulle tombe, Ugliana dice e parla di inciviltà inammissibile, questo per quanto riguardava questo fatto che è avvenuto l'altro giorno con il maltempo. Tribuna di Treviso, qui siamo, eccoci qua, qui siamo sulla pagina trevigiana, protezione civile, vedete con la bandiera della Serenissima sull'imbarcazione, innatante con i colori e i simboli di San Marco, insomma qualcuno dice basta stravaganze, qui sotto, basta stravaganze, inizi a lavorare su giovani e famiglie. Asco con della giustina bis, oltre 27 milioni di utile, il manager Zoppas entra nel board, il PD sceglie cappelletto e il rieletto presidente si toglie i sassolini dalle scarpe e dice ci sono state tante falsità dette su di noi. Vado a sfogliare, c'è anche un inserto chiamato weekend sulla tribuna di Treviso di questa mattina, quindi se vi interessa particolarmente potete acquistarlo, lo trovate. Shunski rispolvera il casello del Piave, porta per il turismo conegliano quartier del Piave, è vero, ha ragione Shunski, mi permetto di dire, perché da anni si parlava di questo casello del Piave, tra l'altro avrebbe dato una mano quando il ponte dell'Apriula era stato chiuso, non si è voluto mai fare, è una porta per il turismo, adesso lo dice il sindaco di Santa Lucia di Piave, vediamo se conta di più sicuramente del sottoscritto, ripropone l'uscita sulla A27 al Gabbiano, è un riconoscimento UNESCO che rende l'opera necessaria, adesso con questi riconoscimenti UNESCO si sta un po' esagerando anche. A Valdobbiadene sono stati vinti 60 mila euro, sono notizie che così danno un po' di felicità a chi le vince, un po' di tristezza e di invidia a chi le legge naturalmente. Da Sernaglia, proposta civica che punge sulla fascia tricolore e a Follina, Follina Futura, il turista non si nutre solo di prosecco e dai che ci siamo ancora. L'ex caserma Marras, manca il parere della sovrintendenza, il progetto per la riconversione dell'edificio in biblioteca contestato dalla Giannelloni del PD, ristrutturazione, fantasma, siamo a Conegliano, dove anche qui si legge che all'oratorio dell'assunta si terrà la mostra per i 500 anni di Leonardo da Vinci. I ragazzi del Grest, ecco la notizia, in piazza Cima e nella sede dei vigili del fuoco in visita. Da Vittorio Veneto, Ceneda, nuovi parcheggi e riqualificazione della piazza. La priorità degli interventi riguarda la realizzazione della rotonda e della bretellina tra via Pinto e via della Bressana, uscita dal traforo sotto il campus scolastico. E poi il caso di cui parlavamo ieri ed è amplificato e riportato oggi ancora, è quello di Sante Covre che è tornato libero, c'è il punto di domanda, parlarne è come riaprire la ferita. Fu accusato di aver ucciso Pianca e Longo, lo ricordate, il sindaco Bizze di Cordiniano dice ora serve l'inserimento nella società, basta sparlare, basta dire sciocchezze, dice il sindaco Bizze. Allora, sistemo il quotidiano, poi ci ritorniamo sulla tribuna, andiamo e ci siamo già sulla pagina sportiva del gazzettino di oggi, eccola qua, la raddrizziamo. Qui si parla di atletica leggera, è la pista di Monte Belluna, chi va allo stadio di Monte si accorge che la pista è veramente conciata male. La pista di Monte Belluna è rovinata e per allenarsi deve andare a Vedelago, nonostante i disagi, oggi Elena Marini è agli europei under 23 nei 100 ostacoli, bravissima. La neopantera Alex Botezat in corsa per loro alle universiadi, domani nella finale delle universiadi l'Italia gioca contro la Russia e ci sono le panterine, così le hanno soprannominate. Lazzaro, un super crono che incanta e poi ancora il volley B1 femminile Martinelli dalla A2 al Duetti Giorgione. Campionato di vertice per quanto riguarda il Porto Mansuet, vedete l'articolo, il Porto Mansuet si presenta ed il sindaco Milan svela le ambizioni. Ora c'è tutto per vincere, ha dato un po' di pressione il sindaco Milan. Squadra affidata al confermato Andretta, abbiamo gli uomini giusti ma parlerà il campo, un pochino più saggio l'allenatore come altri dirigenti della società. Alla Liventina il gaucho mangeri, bestica il completo, insomma si parla un po' di calcio mercato e mi pare che questo sia tutto per quanto riguardasse il gazzettino. La tribuna, la pagina sportiva, le troviamo subito, sono tre, si dà spazio anche alla cronaca nazionale ed internazionale con la Fiorentina che blinda chiesa, Juventus, i tifosi acclamano Higuain. Lombardi, il giocatore della TVB neopromossa in serie A1, Lombardi, Eric che era stato colpito anche da un brutto infortunio, va a Biella ma sempre comunque forza. TVB ufficializzato ieri di trasferimento, due anni passati alla grande fino all'infortunio, grazie a tutti sono cresciuto molto qui a Treviso, ha detto. Doping alla Gran Fondo Sportful, questo veramente è vergognoso, sospeso il vincitore per carità, poi bisogna verificare e andare a scoprire, però dico Enrico Zen che tra l'altro è parente mi pare dell'altro Zen, non vorrei dire una sciocchezza però insomma, Enrico Zen trovato positivo al controllo dopo il trionfo a Feltre, prevista una penale di 50 mila Euro dagli organizzatori, è inutile dare penali, insomma questi vanno severi, severa la notizia, questi vanno eliminati, cancellati ma devono fare ciclismo e possono fare ciclismo solo attorno a casa propria e non mettersi nemmeno a fare ciclismo in queste cose che sono normali, dilettantistiche e amatoriali. Mondiali per club in Cina, lo avevamo annunciato ieri, una vetrina internazionale per le Pantere dell'Imoco e speriamo che ci sia naturalmente lo spazio per seguire questa avventura mondiale dell'Imoco. Chiudiamo, Gazzetta dello Sport, eccola, la centriamo, eccola qui, Gazzetta dello Sport, vedete, nuovo San Siro pronto nel 2023, insomma la sfida parte, il piano per la realizzazione dell'impianto del futuro, Inter e Milan presentano il progetto dello stadio con un investimento da 1,2 miliardi. Annuncio di Cairo, Alessandria per il debutto dell'Euro Toro, tra calcio e palinsesti TV, poi l'Atalanta e la Champions a San Siro, Milan decisivo, risposta entro domani. Poi Juve, vedete, viene il bello, primo giorno, Bianconeri in ritiro con il nuovo tecnico, con Sarri, tante novità al via dall'era Sarri, la missione non è solo quella di vincere, ma divertire ed imporre uno stile con CR7 e con Dybala. Per il calcio ancora c'è l'assalto a Lukaku, blitz in Inghilterra, l'Inter accelera per l'OK United, Ausilio vola a Londra, l'obiettivo è versare i 75 milioni, 165 sarebbero stati un pochino troppi, a rate. Stretta per James, De Laurentiis telefona a Florentino Perez, con Real Madrid si cerca l'accordo, anche in questo caso, sul pagamento. Ciclismo per chiudere, Super Sagan, volata show, oggi si sale e Nibali comincia a scaldarsi. Ed infine, automobilismo, Hamilton, talento, no, tanto lavoro come Schumacher. Questa è l'ultima notizia per lo sport dalla Gazzetta e poi abbiamo visto anche tutti gli altri nostri quotidiani esaminati per voi. Vi do appuntamento domani, saremo a venerdì, sarà l'ultima giornata per la nostra informazione. A tutti voi, buona giornata a tutti. Grazie a tutti.